Solitamente geloso della sua privacy, Fiorello decide di fare un'eccezione alla regola oggi, in occasione del compleanno della moglie Susanna Biondo. Proprio questo pomeriggio infatti il popolare showman ha condiviso sul suo profilo Instagram un rarissimo scatto accanto alla sua dolce metà, uno dei più romantici di sempre. Nella foto Fiorello prende tra le mani il visto dell'imprenditrice e le stampa un tenero bacio sul viso. Il modo più dolce per festeggiare i 58 anni della donna, nata proprio il 21 aprile. Nessuna parola aggiunta, bastano le immagini a parlare. La rarità dell'evento conquista i follower, con oltre 20.000 like raccolti in appena 15 minuti, ed altrettanti auguri per via di questo giorno speciale. Legati da 20 anni, Rosario Fiorello e Susanna Biondo sono sposati da 20. I due si conoscono nel 1996 e diventano marito e moglie nel 2003, il 14 giugno, con una piccola e intima cerimonia con solo 17 invitati. Anche se all'epoca di karaoke, i due, si conoscevano già, l'amore è scoppiato, dopo la fine del programma cult del conduttore che, prima di conoscere la donna, veniva da diverse relazioni che erano state al centro del gossip come quella con Anna Falchi e Luana Colussi. Susanna, però, è stata in grado di fargli battere il cuore più di tutte le altre e lo ha fatto tornare, come ha raccontato lui, un uomo normale imparando a separare la vita nel mondo dello spettacolo da quella reale. Fiorello e Susanna hanno una figlia insieme, Angelica, oggi quindicenne. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.